Buongiorno, bentrovati appuntamento di mattino 6. Giovedì 7 aprile 2016, apriamo con il Santo del Giorno, si tratta di San Giovanni Battista della Salle, che viene ricordato nella giornata di oggi della Chiesa Cattolica, primo di dieci fratelli nacque a Reims il 30 aprile del 1651 e secondo il belluso cristiano fu battezzato nello stesso giorno, il padre Luigi De Salle era consigliere del Re. Gian Battista non dimostrò nei primi anni nulla di straordinario, godeva dell'affettuosità della madre, cresceva nella bontà e nella pietà, le sacre funzioni parlavano alla sua fantasia, gli suggerivano l'altarino in casa e l'imitazione infantile delle cerimonie sacre. A 7 anni serviva in parrocchia e a 9 frequentava le scuole pubbliche. Dopo la retorica studiò filosofia e nel 1669 ottenne il diploma. Nel 1668 ricevette poi gli ordini minori ed intanto frequentava il corso di teologia nel seminario di San Sulpizio a Parigi, dove venne consacrato sul diacono. Mortagli la madre nel 1671 e l'anno dopo il padre si trovò ad essere il capofamiglia e quindi dovette lasciare Parigi. Per tornare a Reims, ovvero erano ancora quattro fratelli e due sorelli, si scelse per confessore e direttore spirituale il canonico Nicola Roiland e a quel giovane sacerdote, pio ardente e caritatevole, affidò il suo animo. E poi nel 1678 venne consacrato sacerdote, una vita anche con dure prove, ma il Signore premiò largamente il suo fedele servo, poiché il 9 aprile del 1719, quando lo chiamò a sé, la sua istituzione, l'istituzione fondata proprio da San Giovanni Battista della Sal contava, pensate, già 40 case, 274 fratelli e 9885 allievi. Dunque questo è il ricordo di San Giovanni Battista della Sal che viene ricordato oggi dalla Chiesa Cattolica. Noi iniziamo ovviamente la nostra consueta rassegna stampa partendo dalle prime pagine del quotidiano Il Centro, poi andremo insieme a vedere anche dal sito del Ministero degli Interni i titoli dei più importanti quotidiani italiani. Partiamo dal centro, l'edizione di Pescara, ecco qui la prima pagina, vedete il titolo principale, riguarda l'asse attrezzato, raccordo autostradale che dire si voglia, perché da oggi sono in vigore limiti di velocità più bassi, la velocità massima scende a 110 km orari, previsti tratti anche a 70 e 50 km orari. Vedete la foto, la fotonotizia che riguarda il premio Allegrino, il medico eroe che aiuta i migranti. E poi nelle cronache, bomba ecologica sul fiume Salini percolato nel fiume, discarica sequestrata dagli uomini della guardia costiera. Poi a Pescara, in città, 100 alberi a rischio crollo, la strage dei pini. E poi invece per quanto riguarda l'occupazione e il lavoro, altri 200 posti da animatori turistici, il via alle domande. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara. Tra qualche istante andremo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Chieti. Poi vedremo anche le altre edizioni del Quotidiano d'Abruzzo. Poi ovviamente nella seconda parte parleremo e vedremo anche alcuni servizi che sono stati mandati in onda nel corso del TG6 di ieri. In particolare parleremo anche nell'ultima parte della nostra rassegna stampa di sport, con alcuni servizi, in particolare sul Lanciano, che si prepara alla gara di sabato con la Virtus Centella, allo stadio Adriatico. E poi parleremo anche del Pescara, perché ieri c'è stata l'assemblea dei soci, è stato approvato il bilancio e soprattutto c'è stata la ricapitalizzazione che è stata votata a favore, anche dal gruppo di minoranza, dal gruppo dell'ex amministratore delegato Iannascoli. Allora, in attesa di vedere, perché questa mattina abbiamo qualche problema con la tecnologia, di vedere le altre pagine del centro. Io direi di passare, se è possibile, al sito, lo faremo tra qualche istante, al sito del Ministero degli Interni, così potremo andare a vedere subito i titoli dei principali quotidiani italiani oggi in edicola. Partiremo dal Corriere della Sera, tanti gli argomenti in esame proprio per quanto riguarda i giornali di oggi, come detto in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, vediamo la prima pagina del quotidiano di Milano, ancora qualche secondo prima di vedere la prima pagina del Corriere. Eccola qui, Assessori in piazza e scontri a Napoli. Renzi, vado avanti. Ieri è stata una giornata difficile per la città di Napoli, c'è stata la visita del Presidente del Consiglio e ci sono state anche delle cariche della Polizia verso i manifestanti. E poi vedete la fotonotizia, centro pagina, lo scandalo Panama Pipers. Ogni giorno nuovi nomi e polemiche per quanto riguarda questa vicenda. Lasciamo il Corriere della Sera e vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano. Padoan l'ha messo lì, la cricca del petrolio. Questa è una intercettazione che riguarda la vicenda che ha portato alle dimissioni dell'ex, ormai ex Ministro Guidi. E vedete questo titolo proprio del Fatto Quotidiano che riguarda questa intercettazione. Poi in basso, antimafia, mani legate contro gli impresentabili, c'è l'intervista a Rosi Bindi, clan all'assalto dei comuni. Andiamo ancora avanti. Ecco il Gazzettino, quotidiano del nord-est, Gazzettino di Venezia. Renzi a Napoli, guerriglia in piazza. Come abbiamo detto, ieri ci sono stati degli scontri tra la Polizia e i manifestanti durante la visita del Premier Matteo Renzi proprio a Napoli, soprattutto nella zona di Bagnoli, zona che il Governo vuole riqualificare dopo tanti anni difficili proprio per il quartiere Bagnoli. E poi c'è un'altra notizia che sta tenendo banco proprio in queste ultime ore, l'intervista a porta a porta del giornalista Bruno Vespa a Rina Junior e Bufera, perché ci sono state delle reazioni tutt'altro che concilianti da parte della politica e non solo. Vedete il titolo, Rina Junior a porta a porta e Bufera. Andiamo ancora avanti. Siamo al quotidiano Il Giornale. Nel governo un clan di figli. Puntini Puntini, questo titolo un po' forte, che riguarda sempre la vicenda che ha portato poi alle dimissioni dell'ex ministro Guidi. Intercettazione shock della Guidi. L'ex ministro contro il sottosegretario De Vincenti fa i fatti suoi. E poi ci sono anche altre intercettazioni. Renzi, intanto a Napoli, accolto da Sassate e da Ferugli. E poi, vedete, c'è il titolo di cui parlavamo qualche istante fa proprio sul Fatto Quotidiano. Ora vogliono zittire pure Vespa. La Bindi ed il governo attaccano il conduttore per aver intervistato il figlio di Rina. E noi andiamo avanti. Lasciamo il giornale, vediamo i titoli principali del quotidiano Il Manifesto. Mi manda Totò. Vedete, questo è il titolo principale proprio sull'intervista di Bruno Vespa a Rina Junior. E poi in alto, scandalo Lucano. Renzi affonda la sfiducia delle opposizioni. Questo è l'altro argomento caldo di queste ultime ore. Infine, un richiamo a quanto accaduto ieri a Napoli. Atterraggio tra i fischi, Bagnoli, modello Expo, tra promesse e trucchi. Proseguiamo. Siamo al quotidiano Il Mattino di Napoli, che ovviamente, essendo il quotidiano di riferimento del capoluogo campano, apre proprio su quanto accaduto ieri. Renzi-Bagnoli rinascerà in tre anni, bonifica da 272 milioni. Via tutta la colmata. Napoli partita aperta per il PD. Bassolino ci aiuti, ha detto Renzi. E poi si parla anche di calcio sul mattino del Napoli. In particolare, Higuaín, svolta nella difesa. Vado dai giudici, squalificato per quattro giornate polemiche anche per questa decisione del giudice sportivo. Lasciamo Il Quotidiano Il Mattino di Napoli. Siamo al messaggero di Roma, che poi vedremo ovviamente nell'inserto Abruzzo. Ma in questo caso parliamo della prima pagina. Guerriglia a Napoli. Sfida di Renzi. Scontri agenti feriti al corteo dei centri sociali. In testa due assessori di De Magistris. E poi si parla di Panama Papers, i conti segreti del gota comunista cinese. Perché ci sarebbero anche comunisti e cinesi in questa lista delle Panama Papers. Siamo al secolo XIX, quotidiano di Genova. In questo caso si parla, il titolo principale riguarda la vicenda della Basilicata, le dimissioni del ministro Guidi. I ricatti del clan Gemelli, così il compagno di Guidi, attaccava Del Rio e gli uomini di Renzi. Oggi l'ex ministra davanti ai PM nelle carte. Gli scontri con il resto del governo. E poi una notizia che riguarda il delitto Reggeni. Perché inquirenti egiziani sono arrivati a Roma. E dunque si incontreranno con i PM italiani per fare il punto della situazione. Siamo al quotidiano Il Tempo di Roma. Vedete il titolo principale con corredo di foto riguarda le problematiche dell'immigrazione. Roma base degli scafisti ISIS. Ecco il dossier top secret dell'antiterrorismo. Collegamenti dalla Sicilia-Milano per smistare i clandestini. In alto si parla delle intercettazioni di potenza. Il quartierino romano puntava al Quirinale. E poi bufera su Vespa per l'intervista al figlio di Riina. Andiamo avanti. Siamo al quotidiano L'Osservatore romano. Il quotidiano della Santa Sede. Vedete il titolo che riguarda in questo caso l'immigrazione. Lampedusa del Leggeo, clima di paura e incertezza per oltre 3.000 migranti sbarcati nell'isola greca di Lesbo. E a proposito dell'isola greca di Lesbo, la notizia della visita del Papa e del Patriarca Bartolomeo accende finalmente i riflettori sulla condizione dei profughi. Perché proprio nelle ultime ore c'è stata la notizia ufficiale che il Papa il 15 aprile visiterà proprio assieme al Patriarca della Chiesa greca, visiterà proprio l'isola di Lesbo. Andiamo avanti. Siamo al quotidiano L'Unità. Fuori i nomi dei torturatori. Si parla della vicenda di Reggeni. La pista degli assassini di Giulio porta al cuore dello Stato. Salta il generale Scialabi. Renzi chiede e dice ora la verità. Gli inquirenti egiziani a Roma incontrano gli investigatori italiani. Proseguiamo. Siamo al quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. Petrolio, la versione Guidi. La Procura non si indaga per disastro ambientale. Caso tumori e caos. E a Napoli le pietre e lacrimogeni al corteo anti-Renzi. Sul futuro di Bagnoli. Siamo al quotidiano La Repubblica. In questo caso vedete l'apertura. Riguarda proprio il caso Reggeni. Ultimatum dell'Italia all'Egitto. Il Cairo risponde. Rovinate tutto. E poi Panama lascia il premier islandese. Obama guerra all'evasione globale. Questo è il titolo che riguarda Repubblica. Siamo al quotidiano Libero. Volano pietre su Renzi. Questo titolo che in pratica spiega quello che è successo ieri a Napoli, a Bagnoli. Dove ci sono stati degli scontri con alcuni agenti di polizia feriti. In questi scontri con i manifestanti. E poi vedete l'inchiesta sul petrolio. Travolge Bosch e Company per un italiano su due. La ministra, il ministro, dovrebbe dimettersi. Siamo arrivati al termine della rassegna stampa per quanto riguarda il sito del Ministero degli Interni. Possiamo ora passare al messaggero per andare a vedere qualche pagina di cronaca d'Abruzzo dal quotidiano romano. Poi alle 7.20 come sempre apriremo invece la pagina del meteo con il nostro Giovanni De Palma. Poi ovviamente vedremo anche le altre pagine di cronaca d'Abruzzo sia del messaggero che del quotidiano Il Centro. Partiamo dal messaggero. L'Aquila un 6 aprile senza pace. Sette anni dopo il sisma, il dolore vivo delle famiglie. Tanta gente alla fiaccolata. Molti giovani sgomberati a redi al progetto case. È polemica. Vediamo a tal proposito anche questa foto. Vedete quanta gente due notti fa partecipato all'Aquila, alla fiaccolata. Erano circa 7.000. Noi abbiamo realizzato un servizio proprio sulla fiaccolata che c'è stata all'Aquila due notti fa perché è stata una fiaccolata molto partecipata, molto sentita dalla popolazione aquilana. E non solo. Vediamo il servizio. Alessandri Carmine. Alloggia Silvana. Aloisi Anna. 309 nomi, 309 colpi al cuore letti nella notte più lunga per la città dell'Aquila che sette anni dopo si ritrova unita nel dolore e nella speranza di un futuro da ricostruire. In migliaia si sono ritrovati in via 20 Settembre per la fiaccolata che si è snodata per le vie del centro davanti a luoghi simbolo di una tragedia collettiva indelebile come un tatuaggio sul cuore per ricordare chi non c'è più, ma soprattutto per dimostrare che l'Aquila ha voglia di tornare ad essere quella del 5 aprile 2009. 2.850 cantieri aperti, alcuni anche già chiusi, altri si apriranno. Più di 2 miliardi di investimenti, il 75% delle persone che dovettero abbandonare la propria casa sono rientrate nelle loro abitazioni. I numeri ci dicono che c'è stata un'accelerazione importante in questi due anni. Dobbiamo continuare così, i problemi non mancano. No, è ora che l'Aquila torni a essere quella città viva, quella città che ha un futuro produttivo, un futuro di cultura, di formazione. C'è poi un altro capitolo altrettanto doloroso, quello di processi, delle inchieste, della sede di giustizia che a molti ha lasciato una sensazione di amarezza in bocca dopo la sentenza di Cassazione che ha assolto 6 di 7 membri della Commissione Grandi Rischi. C'è un altro filone in cui è coinvolto l'ex numero 1 della protezione civile, Guido Bertolaso, il processo Grandi Rischi Bis, che ha annunciato di voler rinunciare alla prescrizione che però scatterà ad ottobre. In Trimila hanno sottoscritto una petizione per invitare il candidato sindaco di Roma del centrodestra ad affrontare il giudizio. Non si può ripartire con una nuova vita se non si chiarisce e si fa piena luce sulle vicende che hanno portato a morte cittadini italiani, sul suolo italiano, quando le responsabilità dello Stato italiano in tutte le sue diramazioni sono scritte nelle carte dei tribunali italiani. Poi bisogna che non vengano alterate quelle carte. Questo è il servizio sulla fiaccolata dell'Aquila. Abbiamo visto la prima pagina del inserto Abruzzo del Messaggero. Vediamo ora le pagine d'Abruzzo del quotidiano Il Centro. Prima di passare al meteo, la prima pagina riguarda tasse, multe, contributi recuperati. Equitalia e Abruzzesi. Amore a sorpresa nel 2015, versati 178 milioni, l'11% in più del 2014, gli importi più alti destinati ad Agenzia delle Entrate, IMS e Comuni. Si pagano i debiti, rateizzazioni decisive. E poi in basso, un aiuto ai giovani commercialisti, perché ieri è stata firmata una convenzione tra la BCC abruzzese e l'Ordine dei commercialisti. E dunque vedete nella foto la stretta di mano tra il presidente dei commercialisti, Venanzio Paciocco e Michele Borgia, che è il presidente della BCC d'Abruzzo. Andiamo ancora avanti. Valagro porta in Cina l'agricoltura tecnologica. Il gruppo di Atesa si internazionalizza sempre di più e dopo aver investito in India, apre una nuova filiale a Shanghai, qui grosse aspettative di mercato. Ma quella di oggi è una giornata importante per l'aeroporto di Pescara, perché per quanto riguarda la trattativa Ryanair ci sarà una giornata decisiva con l'incontro a Roma con il ministro Del Rio. Saranno presenti il governatore della legione Luciano D'Alfonso, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini e il presidente della società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, Nicola Mattoscio. Ovviamente si capirà se ci sono spiragli per far tornare indietro la Ryanair dalla decisione di lasciare l'Abruzzo dal prossimo mese di ottobre. E poi altri due titoli in basso che riguardano la nostra regione. Politica Italia Unica scende in campo in Abruzzo, il movimento di Passera si presenta ieri conferenza stampa a Pescara. Poi Tangentopoli, ricorso in Cassazione contro Del Turco, elementi contraddittori, dicono gli avvocati. Ancora avanti, siamo però arrivati alle pagine di Pescara del quotidiano Il Centro. Allora in attesa di parlare di meteo possiamo iniziare a leggere qualche pagina che riguarda proprio Pescara. C'è questa notizia che abbiamo ritrovato anche nella prima pagina dell'edizione di Pescara del quotidiano d'Abruzzo che riguarda l'asse attrezzato perché dopo gli incidenti degli ultimi mesi e gli ingressi contromano è stato deciso di abbassare i limiti di velocità proprio sull'asse attrezzato. Vediamo nel dettaglio. Da oggi infatti scatta il giro di vite dell'ANAS sulla velocità. 70 all'ora dalle torri Camuzzi allo svincolo della variante, 110 il massimo della velocità negli altri tratti dell'asse attrezzato e non più 130 come era in passato. Ovviamente è stata messa della nuova segnaletica, della segnaletica aggiornata proprio per segnalare i nuovi limiti di velocità che dovranno essere rispettati dalle migliaia di automobilisti che quotidianamente percorrono l'asse attrezzato che collega Pescara a Chieti. E poi si parla di occupazione. 200 posti da animatore nei villaggi. Il gruppo Mambo Giambbo offre incarichi da 400 a 1.500 euro al mese per luglio e agosto. Proseguiamo, siamo ad un'altra pagina della cronaca di Pescara, si parla in questo caso di cronaca, cronaca nera, madre e figlio uccisi, perizia solamente dell'assassino. Ricorderete l'efferato duplice omicidio di tre mesi fa, di meno di tre mesi fa a Pescara. Maxim Cernisch è accusato del duplice omicidio del 24 gennaio in Via Tibullo, in carcere. Parla con una suora, ma è confuso il 26 aprile l'incidente probatorio. Vedete nelle foto anche le due vittime, madre e figlio, di questo terribile omicidio. Poi una notizia lieta in questo caso, perché è stata trovata in ospedale a Pescara una donna che era scomparsa martedì da Avellino, precisamente da Grotta Minarda in provincia di Avellino, una donna con problemi psichici che è stata soccorsa ed è stata affidata ai parenti che l'hanno presa nuovamente in consegna per il ritorno in terra irpina. E poi ancora cronaca, birra e detersivo? No, al market c'è la droga, arrestate dalla Guardia di Finanza. Due Roma rancitelli cedevano cocaina con la complicità di un negoziante. E poi in basso, invalidità civile, boom di richieste, oggi convegno sulla prevenzione dei tumori, sempre più malati oncologici, si rivolgono al patronato della CGL. Poi una notizia che riguarda la Guardia Costiera, i soccorsi in generale, perché proprio grazie ad un trasporto aereo della Guardia Costiera, un paziente in gravi condizioni è stato trasferito da Pescara a Milano, l'ospedale milanese, per un'urgente terapia chirurgica. Proseguiamo, parliamo della vicenda dei pini secolari che si trovano nel centro di Pescara. 100 alberi a rischio di crollo in città. Il Comune scrive alla soprintendenza, piante troppo pericolose, non ci assumiamo responsabilità in caso di incidenti. Prosegue la polemica perché nelle ultime ore c'era stata una mobilitazione generale per difendere questi alberi, ma vedete in basso c'è anche un'intervista all'agronomo, dunque un esperto, in materia che dice che gli abbattimenti sono necessari. Farina, infatti l'agronomo Giuseppe Farina, dice che protesta fuori luogo, solo i tecnici sanno riconoscere se gli alberi sono sani oppure no. E in basso, a proposito di soprintendenza, si parla della nave di Cascella, nave di Cascella che diventa intoccabile. Arriva infatti il vincolo sull'opera d'arte, sull'area circostante. La soprintendenza così si tutela, un simbolo. Nei mesi scorsi, ricorderete, c'era stato l'intervento della soprintendenza anche per quanto riguarda lo stadio adriatico di Pescara. Proseguiamo, siamo ancora dalle pagine del centro della cronaca di Pescara. Sgomberato l'ex consorzio agrario, denunciati 24 disperati. Operazione di controllo nei capannoni e nei ruderi dopo le proteste dei residenti. Il sindaco dice che la proprietà deve murare gli accessi. Blasioli, presidente del Consiglio Comunale, aggiunge che servono altri interventi. Vedete uno dei capannoni nella foto dell'ex consorzio agrario occupato da disperati. Ieri c'è stato questo intervento delle forze dell'ordine. Noi proseguiamo con le pagine della cronaca di Pescara. Premio al medico e al professore che assistono i migranti. Le storie di solidarietà si incontrano sabato alla decima edizione dell'Allegrino. Riconoscimento ad un ragazzo egiziano che da clandestino ha sventato una rapina. Dovremmo ora... Allora possiamo andare avanti. Si parla ora invece della vicenda di Attiva, precaria al lavoro d'estate, proposta del prefetto al vertice con il sindaco del Bianco e gli interinali. Dunque potrebbero tornare a lavorare tra qualche settimana proprio gli ex interinali della municipalizzata. Noi su questa vicenda abbiamo realizzato un servizio che andiamo a vedere. È stato convocato per questa mattina dal prefetto di Pescara, Francesco Provolo, il tavolo d'incontro tra le parti per il caso degli ex lavoratori interinali di Attiva, che da ormai tre mesi manifestano con un presidio fisso davanti al palazzo di città. Il tema è quello della richiesta di lavoro a fronte di contratti definiti illegittimi e la richiesta di conversione in quelli a tempo indeterminato. Presenti al tavolo i vertici di Attiva, il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Blasioli, il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, e tre rappresentanti degli ex interinali. L'intervento del prefetto si è incentrato sull'intenzione di trovare un accordo capace di spostare dalle proprie posizioni diversi attori del caso. I rappresentanti di Attiva hanno ricordato l'impossibilità di contrarre nuovi contratti definiti già da loro illegittimi. Dal canto loro, gli ex lavoratori hanno chiesto di poter essere impiegati per l'imminente stagione estiva, che richiederà un aumento di forza lavoro. Almeno, hanno spiegato, in attesa di giudizio, poiché l'11 maggio prossimo si apriranno le prime cause intentate dagli ex interinali. Il sindaco di Pescara si è dimostrato disponibile a cercare nuove soluzioni, annunciando di voler incontrare i suoi tecnici per rivedere le carte e interrogarsi su altre possibilità. La settimana scorsa, intanto, si era recato a Roma per un incontro al Ministero del Lavoro, già informato sui fatti. La questione resta ancora aperta, ma il prefetto di Pescara ha sottolineato la libertà di manifestare come diritto garantito dalla Repubblica Italiana, invitando però gli interinali a non ripetere i comportamenti che possano rivelarsi offensivi verso le parti in causa. Augurio dunque che gli ex interinali di attiva possano comunque risolvere positivamente questa vicenda. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Nuovo in studio, seconda parte di mattino 6. Eravamo alle pagine di Pescara del centro. Vediamo qualche altro titolo dalla pagina che avevamo lasciato prima della pausa. Controlli sui solai delle aule, provincia, interventi nelle scuole, poi alimentazione corretta a scuola, lezione per i genitori. Proseguiamo, siamo ancora alla pagina di Pescara. Costantini chiude, crisi senza fine. Vado al sud e apro un ristorante. Chiude la storica libreria di Corso Vittorio Emanuele a Pescara che abbasserà la Saracinesca il prossimo 16 maggio. A 113 anni, pensate, dall'apertura della prima attività e vende tutto a prezzi scontati. Il titolare dice, a Pescara non c'è più posto per me. E poi a lezione di ottimismo con l'inviato di Striscia, la notizia Luca Abete parlerà agli studenti del liceo scientifico Galileo Galilei. E poi in basso l'ultimo saluto a due personaggi importanti di Pescara. Da una parte, vedete, folla commossa per l'addio a Bruno, l'ex capo di gabinetto della Questura. Ieri ci sono stati i funerali nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori. E dall'altra parte, vedete, l'ultimo saluto, l'addio all'avvocato Scudieri, Angelo Scudieri, che è scomparso all'età di 80 anni. Proseguiamo, siamo alla pagina di Montesilvano del Centro. Ritroviamo uno dei titoli principali dell'edizione di Pescara. Bomba ecologica, i mare e i veleni della discarica sul Saline. Scatta il sequestro della Guardia Costiera nell'impianto di Villa Carmine, da cui percolato cola direttamente nel fiume. Vedete la foto con l'intervento e il sequestro degli uomini della Guardia Costiera. E poi liste civiche in Movimento 5 Stelle. Ora Maragno si dimetta, l'inquinamento fa insorgere la minoranza. Critico anche il PD. Aliano vuole un consiglio comunale straordinario. Ancora a Montesilvano, all'Eccelsior, 60 rifugiati gestiti dalla cooperativa ETA Beta. L'arrivo dei migranti annunciato nei mesi scorsi era stato smentito dal titolare dell'albergo. Aliano dice rivedere le licenze degli hotel che ospitano i profughi. E poi in basso, ancora a Montesilvano, strade a pezzi, interrogazione del consigliere Di Stefano. A Pianella, trattore ribaltato, 58enne, ferito. E siamo a Francavilla. I francavillesi vogliono sicurezza e mare pulito. La preoccupazione per l'incremento dei furti nelle abitazioni e i divieti sulla balneabilità delle acque tra le priorità di un sondaggio tra 400 cittadini. E ancora a Francavilla, nuova carta dei servizi sociali. Domani incontro sui disabili. Sempre nella cittadina adriatica di Stefano Luciani, prime stoccate sul voto dei 18enni. È già campagna elettorale. Vista delle prossime amministrative. Poi a San Giovanni Teatino, Fercam rilancia la filiale abruzzese. Azienda di trasporti e logistica potenzia la sede operativa. A San Giovanni Teatino. Siamo alla pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara. Casa di riposo fuori legge. Per i 30 ospiti anziani siamo a Penne. Dopo i sopralluoghi del NAS e dell'ASL, l'edificio De Santis del Bono non rispetta più gli standard previsti. Nessuna prescrizione per l'ala dei rifugiati. E poi a Manoppello c'è la terza lista con De Luca, Iezzi, Argiro e Di Bartolomeo. Si parla di elezioni anche a Manoppello. E sempre a Manoppello chiesa e convento riaperti dopo i lavori di restauro. E da Manoppello ci spostiamo nell'area Vestina, Penne, dove risorge l'istituto tecnico Marconi. Domani l'inaugurazione dopo cinque mesi di lavori di riqualificazione. Ci saranno presenti anche il presidente della regione Luciano D'Alfonso e il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco. Siamo alla pagina di Chieti del Centro. Cucurullo dice addio all'Università d'Annunzio con una lettera di poche righe al rettore Dilio. Lascia la fondazione, non sarà lui il presidente dell'ambizioso progetto dell'Università di Chieti-Pescara. E poi alle 9.30 questa mattina, proprio nella sede dell'Università, nel rettorato dell'Università di Chieti, ci sarà un importante convegno con il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini e con il presidente dell'autorità nazionale contro la corruzione, Raffaele Cantone. E poi in basso si torna sulla vicenda della morte del giornalista Simone Davita. La morte causata dai pugni è stata depositata alla consulenza finale. Caso chiuso, la posizione dell'indagato si aggrava. E proseguiamo ancora. Siamo all'Aquila, fiaccole e impegno. Il corteo è dei giovani. Abbiamo visto pochi minuti fa il servizio realizzato dal nostro collega della redazione dell'Aquila, Giorgio Alessandri, proprio sulla fiaccolata di due notti fa nel centro dell'Aquila. Oltre 7.000 persone hanno partecipato a questa fiaccolata e proprio in occasione della ricorrenza del terremoto del 6 aprile 2009, Senato e Camera hanno osservato nelle sedute di ieri un minuto di silenzio, di raccoglimento, per ricordare le vittime del terremoto. In basso il lutto non ferma gli operai comunali. Rimosse recinzioni nel progetto case. Scoppia la rivolta degli inquilini. Scontro tra l'UGL ed il sindaco dell'Aquila, Cialente. Siamo alla pagina di Teramo del quotidiano Il Centro. L'apertura è dedicata alla politica perché Manuela Di Pasquale dice addio al Consiglio Comunale, si è dimessa da consigliera per dedicarsi esclusivamente alla presidenza dell'Istituto Zoo Profilattico. Al suo posto entra Ilaria De Santis. Mariani, il capogruppo del Partito Democratico di Teramo, dice che la sua è una scelta istituzionale. E a proposito di Consiglio Comunale di Teramo, un'altra notizia destinata a far discutere, forse a lasciare il segno in futuro, riguarda il consigliere Guido Campana che lascia la lista civica e va nel gruppo misto via dall'orbita di Di Dalmazio, ma resta in maggioranza. E poi la cronaca sempre da Teramo, ragazza investita in piazza Garibaldi, ennesimo incidente sulle strisce, la ragazza ha riportato fortunatamente solo escoriazioni. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo passare a vedere insieme invece le pagine di cronaca d'Abruzzo del messaggero. Avevamo visto la prima pagina qualche minuto fa, proseguiamo con il primo piano dedicato doverosamente dal messaggero proprio al ricordo del terremoto dell'Aquila. Il Comune rimuove arredi e recinzioni, esplode il caos al progetto case, il blitz degli operai provoca la reazione dei residenti. Vespa dell'UGL dice vergognosi il giorno scelto e le modalità. E poi, balconi crollati, scende in campo la procura della Corte dei Conti. La magistratura contabile indagherà infatti parallelamente sul danno erariale di 18 milioni di euro. E poi l'ex prefettura uno scempio, quel progetto, questo lo dice Italia Nostra, in basso, Bertolaso, la guerra dei familiari continuo. E poi l'Aquila post-sisma, scelta come simbolo. Ancora sul ricordo del terremoto dell'Aquila, fiaccolata più presenze giovani, la città non dimentica la tragedia. E poi ancora degli articoli sul ricordo della tragedia del 2009, ma il percorso del dolore passi anche per il convitto. Questa è la richiesta avanzata dalla madre di Luigi Cellini, il quindicenne di Trasacco, che perse la vita con altri due minori. E poi ieri è stata un successo la maratonina della Guardia di Finanza e l'Aquila Raghi per l'occasione ha realizzato una maglia celebrativa. E siamo ancora alle notizie che riguardano il terremoto dell'Aquila. Giusto tenere le scuole aperte, gli studenti aquilani concordi, essere in classe il 6 aprile è il modo migliore per trasmettere un segnale di normalità. E poi la commemorazione, lo abbiamo detto anche prima, in Senato e alla Camera, è stato osservato un minuto di silenzio. E poi la storia che arriva sempre dall'Aquila. Costretto a vendere la mia lavanderia, Giulio Santososso, il padre di Marco, spese legali insostenibili e non si è visto neanche un euro. Altre testimonianze, nessuno ci riderà, Daniele e Martina, noi alla fiaccolata per chiedere verità, lo strazio lacerante di Alessandra Bortoletti e i tanti interrogativi. E poi la tragedia di Alessio, era evitabile il dolore senza fine di papà Roberto, il giovane perse la vita nella casa dello studente. Penne non lo dimentica, ragazzo originario proprio della cittadina, in provincia di Pescara. Ancora avanti, ancora cronaca che riguarda l'Abruzzo. Questa volta si parla di trasporti, caccia alle alternative. Oggi il verdetto della Ryanair, l'abbiamo visto anche prima, ieri D'Alfonso ha incontrato ai Vallesi, pensa a voli per Russia e Israele, poi tutti a Roma, per il summit odierno, proprio con il ministro del Rio, per stimolare il dietrofront della compagnia low cost. L'obiettivo è rivedere la tassazione aggiuntiva fissata dal governo e poi Italia Unica si presenta di Dalmazio con Passera. Vedete la foto della conferenza stampa che c'è stata ieri. Poi il caso migrazione è De Santis, ma quali fughe? L'IDV cresce. E poi c'è un altro titolo che riguarda l'ospedale di Chieti, perché ieri mattina c'è stata una conferenza stampa dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi e Domenico Pettinari, che dicono no al project financing dell'ospedale Teatino. È arrivata poi la risposta del consigliere D'Alessandro, che ha invitato tutti alla calma. Noi abbiamo seguito questa conferenza stampa che si è tenuta nella sede del Consiglio regionale a Pescara. Andiamo a vedere il servizio realizzato dalla nostra Francesca Romana Testi. Il Movimento 5 Stelle torna sul caso dell'ospedale di Chieti e soprattutto sull'annunciato project financing, al quale avrebbe intenzione di ricorrere la regione Abruzzo. Un progetto che, come denunciato dai grillini, comporterebbe una spesa maggiorata di ben 800 milioni di euro. Un impegno economico trentennale che tra sei anni graverà in maniera significativa sulla regione. Nessuna risposta dalla regione Abruzzo sul tema e così 5 Stelle inviano una missiva all'attenzione di tutti gli attori coinvolti. Non c'è risposta, per cui abbiamo inviato una comunicazione al presidente D'Alfonso, a tutti i componenti della Giunta e a tutti i dirigenti, perché abbiamo letto i documenti e il nostro non è un no ad un nuovo ospedale. Il nostro è un no al ricorso alla procedura del project financing che costerà agli abruzzesi almeno 800 milioni di euro in più del dovuto. La preoccupazione resta quella di una dissennata spesa evitabile. L'alternativa esiste, spiega Sara Marcozzi, che, dati alla mano e viste tutte le voci di capitolo annesse al project financing, ricorda la possibilità di ridurre la spesa da 3 miliardi e 200 milioni di euro a ben 2 miliardi e mezzo. L'alternativa è come si è sempre fatto, e cioè la regione ricorre autonomamente a affidare una progettazione e costruzione. I soldi ci sono, l'abbiamo detto più volte, e eventualmente si può fare ricorso a cassa depositi e prestiti senza gravare eccessivamente sulle casse della regione e quindi sui cittadini. Questo è il servizio sulla vicenda del project financing dell'ospedale di Chieti. Siamo alle pagine della cronaca di Pescara, sempre dal messaggero sgomberato l'ex consorzio agrario, diventato casa di famiglie disperate. Vedete questa pagina dedicata proprio allo sgombero dell'ex consorzio agrario. Poi Pini al rischio, sovrintendenza diffidata dal comune. Proseguiamo, discarica dei veleni a Villa Carmine, scatta il sequestro e poi messo il vincolo sulla nave di Cascella, è un'opera identitaria per la città, lo dice sempre la sovrintendenza. E poi mediazione del prefetto per gli ex interinali di Attiva, farli assumere per l'estate l'obiettivo, ma i loro contenziosi con l'azienda complicano tutto. Abbiamo visto poco fa il servizio e poi sigili del NAS, la Tricomedit dice, noi in regola con i permessi e poi arancia meccanica in scena con le musiche di Morgan. Questo è lo spettacolo che ci sarà a Pescara al Teatro Massimo. Proseguiamo, ancora pagine questa volta di cronaca che arrivano da Avezzano e Sulmona. Liberty, arrestato il re dei neurochirurghi, in Valle Perigna lo conoscono come il medico dalle mani d'oro, è stato coinvolto nello scandalo Mazzetta all'ospedale di Salerno. E poi in manette sono finiti anche il collega primario Brigante, indagato pure Fukushima, il luminare giapponese, suo maestro. Tagliacozzo, Bonifaci dal GIP, la ditta rinunciato all'appalto. Si parla della vicenda di qualche giorno fa, del terremoto giudiziario che c'è stato nel piccolo centro Marsicano. Poi Sulmona, l'Apelino, dice, l'ospedale di primo livello. E Celano, Santilli attacca il CAM, non pagate l'acqua, sempre da Celano, cani antidroga in classe, studente preso con l'Ascish. A Sulmona manca il collaudo, Ponte resta interdetto. Infine all'Arsa, ieri ad Avezzano, nella sede dell'Arsa, si è tenuto un vertice sulla sanità. Siamo alla pagina di Chieti del messaggero. Il professor Cucurullo si dimette dalla fondazione d'annunzio. La lettera di Ilio, non sono più presidente. Da subito, fra una decina di giorni, sarebbero decaduti tutti gli organi dell'ente fondato 13 anni fa. E poi corsi e kit agli studenti. Il CUS vuole 2 milioni e ripartita una nuova querella a colpi di ricorsi. E poi in basso, Chiarelli ha patteggiato, ma resta docente primario, era accusato di peculato. Ha restituito 90 mila euro per l'attività in Tramoenia. E poi cronaca, maxifurti di sigarette. La polizia risolve il caso. Due finiscono in trappola, seguivano i tabaccai incastrati dalle telecamere. E poi basta straordinario, ora la seve l'assuma. La Brozzi della FIOM dice che non si fa fabbrica se non si opera per l'incremento dei livelli occupazionali dello stabilimento. E poi a Lanciano, Unioni Civili, l'Arcighe attacca l'Arcivescovo. Sempre nella città frentana, imprese la Valagro. Gruppo sbarca anche in Cina. Basto il recupero di Punta Penna in un originale tesi di laurea. Poi Torino di Sangro abusò della moglie. Dopo averla stordita, operaio condannato dal Tribunale a due anni e sette mesi. La notifica dei carabinieri. Infine Ortona, Centenario Tosti al via. Le manifestazioni per ricordare appunto il compositore ortonese Francesco Paolo Tosti. Siamo alle pagine di Teramo. Teramo è provincia del messaggero. Manuela Di Pasquale si dimette. Le mie energie per l'Istituto Zooprofilattico. E poi parcheggio ospedale. La protesta dei medici a Colliberti. Tre fratelli si picchiano per l'eredità contesa. E poi in basso, Piazza Garibaldi. Investita una quattordicenne. La giovane è stata travolta all'incrocio contestato. Siamo a Giulianova. Battaglia sulla variante al piano territoriale. Consiglio di fuoco questo pomeriggio sull'urbanistica. Il cittadino governante parla di sacco del territorio. La replica del segretario dei democratici Gabriele Filipponi. Nessuna zona di espansione, solo piccoli interventi. Sempre Giulianova ha convocato il tavolo per il fiume Tordino. Roseto e i carabinieri trovano Mariana al Moretti. Ancora Roseto in pass su Norante. Scocca Lira del Partito Democratico. Ancarano, Rogo, sono quattro i comuni in allarmi. Infine Martinsicuro, Porto Insabbiato. Domani ci sarà un vertice in regione. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Dobbiamo passare ovviamente a vedere le pagine del quotidiano La Città di Teramo. Lo faremo tra qualche istante. Vedremo subito la prima pagina, i titoli principali. Ecco qui, Rissa tra fratelli per l'eredità. Questo è il titolo di apertura del quotidiano La Città di Teramo. Isola del Gran Sasso. Nella discussione spuntano Mattarello e Spraia al peperoncino. Poi arrivano i carabinieri. Vediamo allora le pagine interne del quotidiano La Città. Partiamo. Parliamo di cronaca regionale. L'Aquila diventerà laboratorio della sicurezza. Il presidente del Consiglio nazionale dei geologi dice sarà la città pilota nella prevenzione sismica. E poi, degrado e cattiva gestione. Il GIP sequestra la discarica sul Saline. A Montesilvano. Proseguiamo. Teramo. Manuela Di Pasquale lascia il Consiglio comunale. La candidata sindaco del PD e Teramo Cambia si è dimessa a causa degli impegni alla presidenza dell'Istituto Zoo Profilattico. E poi, nel Consiglio comunale, subentrerà Ilaria De Santis. Il capogruppo regionale del PD, Sandro Mariani, interviene sulle dimissioni di Manuela Di Pasquale. Andiamo avanti. Genio civile in tilt. Nel passaggio di consegne siamo sempre a Teramo. L'ordine degli ingegneri protesta, regione impreparata ad assumere le competenze della provincia. E poi lavoro, porte aperte, oggi in Abruzzo e anche a Teramo, ai centri per l'impiego provinciali. Andiamo ancora avanti. Il cortile dell'archivio, lo dice il Catasto, tramonta ogni speranza del Comune di trasformarlo in parcheggio inutile. La delibera di indirizzo, datata 1995. Nelle camere mortuari restano gli angeli. Offerta unica per la gestione quinquennale dei quattro abitori provinciali. Vince la ditta di Sant'Atto. Questa è la notizia che arriva sempre da Teramo. E poi servizi identità digitale. È più facile averla in 23 uffici postali teramani. Ambiente, tessuti aerei a San Nicolò. L'incontro con gli acrobati. Proseguiamo. Siamo ancora con la cronaca da Teramo. Studentessa falciata sulle strisce. Ennesimo investimento in Piazza Garibaldi. Inefficaci tutte le misure del Comune. Quartieri, Porta Reale chiede maggiore attenzione al decoro urbano. Andiamo avanti. Siamo alla cronaca della provincia di Teramo. Alla vicenda della Italpannelli di Ancarano. Ora la priorità è rimuovere i divieti. Nuovo summit in prefettura sull'inquinamento dei terreni e delle falde acquifere attorno all'impianto. Castellalto, un consiglio comunale per celebrare i 70 anni del voto alle donne. Botte tra fratelli per l'eredità di famiglia. Questo è il titolo che abbiamo visto nella prima pagina del quotidiano. La città, isola del Gran Sasso. Discussione per un terreno lasciato dai genitori. Degenerà e spuntano un mattarello e lo spray al peperoncino. Poi arrivano i carabinieri. Bellante, pallini e inchini danno vita alla lista civica di centrodestra. Verso il voto. Cronaca, foglio di via di tre anni per due rom terramane. Sorprese nel Frusinate. Tutta colpa dei lavori sul torrente Vibrata. Siamo proprio alla pagina della Val Vibrata. Scoperta l'origine della macchia scura di organico che si è depositata sulla riva a Villa Rosa. Sant'Egidio, minoranza ancora latitante. Solo Valentina Galli al consiglio comunale. Poi scuola a Corropoli. Imparare ad orientarsi nella formazione. Ancora a Val Vibrata. Dal Badriatica in particolare. Bimbo investito davanti al parco. Sbuca all'improvviso in strada. Ricoverato all'ospedale di Teramo. E poi cronaca sempre dalla Val Vibrata. In questo caso da colonnella. Due smart noleggiate distrutte dalle fiamme. E siamo alla pagina di Giulianova e Mosciano Sant'Angelo. Giulianova in arrivo un'altra colata di cemento. Arboretti denuncia. Il piano territoriale e provinciale è sotto attacco. E poi la polemica senza fine. Giussi e Adalberta. Duello online su dove piazzare la spiaggia Canina. In basso, a metà aprile, il tavolo per gli interventi sul Tordino. A confronto i soggetti interessati alla messa in sicurezza e al ripristino degli argini. E siamo alla pagina di Roseto, Pineto, Atri e Silvi. Partiamo da Pineto. Vongolari e Pepe fuori dal parco del Cerrano. Il presidente Cantarini ribadisce che è vietato per legge pescare nell'area marina protetta. A questo punto sarebbe meglio abolirla, dice. E poi in basso, controlli antidroga all'istituto Moretti di Roseto. I carabinieri trovano 7 grammi di erba nel bagno della scuola. E siamo ancora alla pagina di Roseto, Pineto, Atri e Silvi. Siamo a Roseto. Salta il consiglio sull'incompatibilità di Norante. Niente discussione del punto presentato dal Partito Democratico per la mancanza del numero legale. E poi in basso, l'amministrazione esternalizza anche il servizio di riscossione delle multe. L'accordo con la Index velocizzerà le pratiche e permetterà alla Polizia Municipale di avere più agenti. A disposizione, vedete la foto, con il sindaco di Roseto, Enio Pavone. E siamo alla pagina dell'economia. Scompiglio a Bolkstein al mercato settimanale. Commercianti, ambulanti, associazioni di categoria e dirigenti comunali fanno il punto sulle nuove regole. Arriviamo alla pagina dello sport del quotidiano La Città, che parla del Teramo. Teramo calcio fuori casa. Il gol manca da due mesi. L'ultimo in ordine di tempo l'ha segnato Petrella a Savona il 6 febbraio. E a proposito di sport, andiamo ovviamente a vedere le pagine sportive del centro e del messaggero. Partiamo dal quotidiano Il Centro, perché quella di ieri, come vi dicevo in precedenza, è stata una giornata importante in casa Pescara, perché si è conclusa in serata l'assemblea dei soci. Sebastiani Iannascoli, ancora scintille sui conti, delibera di ricapitalizzazione approvata, ma il socio di minoranza vota contro la semestrale. Al 31 dicembre scorso, Vincenzo Marinelli è stato nominato presidente onorario del Pescara. Vedete nella foto i protagonisti dell'assemblea dei soci, che si è tenuta ieri sera nella sede di Lungomare Paolucci. E poi Abodi, presidente della Lega di Serie B, dice stop ai ripescaggi. Per quanto riguarda l'anticipo di domani sera ad Avellino contro la formazione irpina, un dubbio a centrocampo per Oddo, il Bebi Selassi o l'esperto Bruno, il tecnico, deciderà proprio nell'immediata vigilia. Vi ricordo che il Pescara giocherà domani sera alle 20.30 ad Avellino. Questo importante anticipo di campionato ovviamente seguiremo in diretta questa gara dal Partenio Lombardi nel corso di diretta stadio condotta da Andrea Costantini. Parliamo del Lanciano. Salviato è pronto a rientrare dall'inizio, si amenta, non ce la fa. Il centrale difensivo della Virtus Lanciano resta in dubbio. Il terzino conosco Aglietti, non mi fido dell'Entella. Entella ancora in corsa per i play-off. Lega Pro, Teramo e L'Aquila, tifosi in calo, lo dicono i dati presentati dal centro. Poi L'Aquila, Perrone forse lancia subito Chirieletti, l'ultimo arrivato. In fondo, al fondo pagina, si parla del miracolo di Palladini, ex giocatore capitano del Pescara, che è tecnico della San Benedettese, sta per coronare il sogno della promozione. San Benedettese, che si batterà la Iesina, sarà promossa in Lega Pro con quattro giornate di anticipo. Infine, la scherma in Corona, Flaiano, Teate e Raiano. Le notizie che riguardano questa disciplina. E poi la palla a nuoto, Original Marins, il derby è un monologo. Il derby di Serie B tra Original Marins, Pescara e Club Acquatico, è stato vinto dalla formazione guidata da Gianni Giannuri. Se andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero, Pescara, emergenza infinita, tante le assenze anche domani sera nella gara di Avellino. Per la trasferta di domani, capo anche Zampano, Oddo senza Terzini, potrebbe lanciare il baby ventola. E dunque, grossi problemi di formazione. Voto non unanime, passa alla linea di Sebastiani. Parliamo dell'assemblea dei soci. E poi basket, amatori da record. Formazione bianco-rossa, reduce da 11 vittorie consecutive. E poi grosso e di massimo, dopo il viareggio, assalto alla Coppa Italia. Grosso allenatore della formazione primavera della Juventus. Parliamo del Lanciano, a 50 dei punti la salvezza è certa. L'esperto salviato conosce alla perfezione Aglietti, Cutolo e Capuano. Noi a proposito del Lanciano andiamo ad ascoltare il tecnico Primo Maragliulo. Ho preferito, e preferisco anche adesso, in questo momento, semplicemente esaltare più la prova della mia squadra, che dire che possiamo aver perso per una cosa o per l'altra. La stessa cosa, tra l'altro, se vi ricordate bene, l'ho fatta anche per altre situazioni, extra campo, perché sono convinto veramente di questa cosa. Io sono convinto che in questo momento del campionato noi abbiamo l'obbligo e il dovere di pensare solo ed esclusivamente a quello che dobbiamo fare sul campo. Questi sono ragazzi che in campo, in allenamento, danno veramente l'anima. E sotto quell'aspetto io sono sempre tranquillo. Perciò immaginavo che Perugia potesse essere solamente una giornata storta. E questo, sinceramente, l'ho verificato a Crotone, dove la prestazione, secondo me, contro una squadra fortissima che in casa ha lasciato veramente le briciole a tutti quanti, ha concesso pochissimo, ha fatto una partita più che dignitosa. Anzi, rispetto a qualche altra volta, gli episodi non ci sono girati a favore, perché se alla fine del primo tempo avessimo avuto la fortuna o la bravura di andare in vantaggio, magari la partita potrebbe cambiare. Questo non lo sappiamo, però la squadra si stava comportando veramente bene. Ancora calcio dalle pagine del Messaggero. Parliamo del Teramo Campitelli dice Teramo, mi piace Lupo DS. Calcio a 5, Mamarella resta top player, miglior portiere al mondo. L'Aquila per Prato ancora in dubbio, il centrale Pesoli, guai muscolari per lui. E chiudiamo andando a vedere insieme i titoli dei quotidiani sportivi nazionali. Una giornata importante, quella di ieri, per lo sport del calcio, in particolare con le partite anche di Champions League. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, Panca d'Italia, allenatori sempre più ricchi, da Ancelotti ad Allegri, i nostri tecnici Paperoni e Agli Esonerati. 21 milioni, dicevo, Champions League. Real abbattuto dal Wolfsburg, Ibra non vola con il City 2 a 2. Vediamo i risultati. Barcellona-Atletico-Madrid 2 a 1, due gare giocate però l'altro ieri. Poi Vittoria del Bayern-Monaco. E poi, come detto, pareggio tra Paris Saint-Germain e Manchester City. E Vittoria del Wolfsburg con il Real Madrid per 2 a 0. Siamo al Corriere dello Sport, devono ridarci Guain. Sul caso del giorno interviene anche il presidente dell'anticorruzione. In alto il caporavoro di Allegri, così ha zittito il Milan. Si giocherà nel prossimo turno Milan-Juventus con Allegri grande ex. E poi, come detto, Champions League. Il Real va a picco. Il rischio a grosso 2 a 2 tra Paris Saint-Germain e Manchester City. Chiudiamo con tutto sport. Un pastore per Agnelli, non solo Cavani, anche pastore e vicino alla Juventus. Siamo giunti al termine dunque del appuntamento di oggi del 7 aprile con Mattino 6. Grazie come sempre per averci seguito. Vi ricordo come sempre alle 14 il prossimo appuntamento informativo con la prima edizione del TG6. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.